buongiorno da questo video dalla stazione di bellano tartavalle terme guardate che bell'aspetto che ha questa bella stazione con una banchina tutta nuova e rifatta che serve anche per le persone con difficoltà motoria qui siamo al binario 1 della stazione di bellano siamo in attesa del treno proveniente da milano centrale diretto tirano delle ore 14 e 30 in leggero ritardo ma è già stato annunciato che è in arrivo esattamente al binario 1 intanto godiamoci di questa bellissima visione di questa bella stazione di bellano che gode di un immenso verde guardate circondata da un sacco di piante di fiori e di verde e qui abbiamo le montagne davanti a noi con noceno in prima visione ecco questo è l'annuncio del treno in arrivo da milano ecco adesso attendiamo l'uscita della galleria che dovrebbe essere in arrivo al binario 2 invece si attende il treno proveniente da tirano e diretto a milano centrale stazione di incrocio con scampi con i vari treni non vediamo ancora apparire il nostro treno eccolo che sta per uscire dalla galleria abbiamo un bellissimo treno coradia meridian verde di ultima generazione bellissimo siamo in doppia composizione no ho sbagliato non è in doppia composizione ma è in singola composizione oggi sono solo 5 carrozze fermata di bellano tartavalle terme del treno coradia meridian per tirano ciao da sandro